Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Descent, la guerra del traditore. La prima espansione della nuova edizione di Descent, che vi ricordo è la scatola base, che ho già portato nel canale, e trovate il primo link in descrizione, leggende delle tenebre, è la nuova versione di Descent, che è un dungeon crawler. È un gioco famoso che ha fatto, perché no, anche ha portato, non ha fatto la storia del genere, ma ha portato una ventata di contenuti alternativi, perché Descent, vi ricordo, nella sua prima edizione, ormai introvabile, era un dungeon crawler alla, tra virgolette, ovviamente, come il capostipite HeroQuest, mentre invece la seconda edizione era quella guidata da app, quindi, se vogliamo, anche avventure nella terra di mezzo del Signore degli Anelli, ovvero il classico gioco che va a fondere il gioco da tavolo a un videogioco e dove sarà direttamente un'app, oltre alle regole che trovate nel regolamento a guidarvi, e quindi ha sancito un altro tipo di percorso alternativo in questi nuovi giochi, permettete di dirmelo, di dirlo, intelligenti comunque, collegati appunto e guidati da NAP, dove andremo a guidare un gruppo di eroi in un gioco totalmente cooperativo all'interno di dungeon, o comunque location fantasy, per un dungeon crawler veramente, secondo me, con i fiocchi e fatto veramente bene. E questa, la guerra del traditore, è la prima espansione ufficiale per il nuovo Descent, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Descent, la guerra del traditore, come detto poc'anzi, è la prima espansione del nuovo Descent, e ancora una volta ringraziamo in questa edizione italiana appunto Asmod Italia per averci offerto questa copia per la recensione, ed è sempre ovviamente un piacere e un onore poter collaborare con voi, quindi grazie di cuore. Come vedete qui davanti, ma poi nel corso del video magari ve lo facciamo vedere anche un pochino più da vicino nel dettaglio, soprattutto le miniature che al solito si confermano a dei livelli altissimi, e ce ne sono alcune veramente stupende, come vedete andiamo a riprodurre un... in questo nuovo Descent, oltre all'app e tutto quanto, c'è proprio la tridimensionalità delle mappe, perché non soltanto gli elementi sono in 3D, ovviamente fatti in cartoncino da andare poi dopo a defustellare e incastrare, però come vedete ad esempio queste tre colonne sono elementi fisici che vanno a dare quel tocco appunto di tridimensionalità in più al gioco, che poi a chi piace e chi non piace, perché come ci hanno insegnato i giochi di ruolo, basta carta veramente matita o penna per immaginarsi un mondo intero fantasy, non c'è bisogno di vederlo raffigurato, però devo dire che è appunto non tanto l'evoluzione, quanto una strada alternativa, perché oltre ad avere il gioco da tavolo, con le carte, le miniature, i dadi e tutto, e l'app che ti guida, avere anche un po' di componentistica in 3D da mettere sul tavolo non è male, e poi qui Descent nella nuova edizione è stato anche geniale, perché addirittura la scatola, la scatola del gioco è area di gioco, e in alcuni dungeon la scatola magari è il basement, è la cantina, è la parte bassa del dungeon, le segrete, quindi è veramente bello vedere che è anche la stessa scatola del gioco, infatti uno vede questo scatolone che è immenso, è difficile anche riporlo nel Kallax, perché prende tutto quanto lo scomparto, ma perché la scatola appunto è area di gioco, e in questo è una novità, almeno nel campo dei dungeon crew di Descent, perché è veramente interessante, e poi vediamo altri elementi scenici, ad esempio una scala con un ponte, un carrettino con ruote per una mappa, un'altra campana tipo questa da appendere, dei fuochi che servono soprattutto nelle nuove regole per quando qualcosa prende fuoco, perché in questo nuovo Descent è bellino che regole di gioco, eventi guidati dall'app, o magie, o anche azioni dei giocatori, del gruppo di gioco, degli avventurieri, potranno appiccare un incendio, quindi appiccare un incendio sia ai vostri nemici che anche agli elementi scenici, e in questo caso magari si prende la fiamma e si va a mettere sul carrettino, per andare dopo a testimoniare appunto, a far presente, magari anche all'app tramite opzioni, che questo carretto sta prendendo fuoco, e il gioco è veramente molto 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 interessante. Le schede dei personaggi, che ora a breve le vedrete direttamente a schermo, i personaggi sono gli stessi di Descent Leggende delle Tenebre, sono gli stessi identici, ovviamente qui in forma evoluta, perché questa espansione si può giocare dopo aver finito la campagna del gioco base, ah, serve il gioco base per giocarla, eh, non potete prenderla a parte, ovviamente il regolamento non c'è, quindi vi serve per forza, anche come componentistica, eh, perché ci sono alcuni pezzi della scatola vecchia, comunque si può giocare o a fine della campagna principale di Leggende delle Tenebre, o iniziando direttamente da questa, quindi quando iniziate una nuova partita, l'app vi chiederà, vuoi iniziare con Leggende delle Tenebre, o con la Guerra del Traditore, e quindi potete anche decidere di partire con una rispetto all'altra. I personaggi sono gli stessi, però ovviamente questa volta li troviamo in versione evoluta, in versione più forte, sono la loro versione aggiornata, più esperte e più forte, un po' come partire con un gruppo di livello 1, e a fine campagna ritrovarseli nella seconda campagna, a livello 7, 8, 10, quindi sono evoluti, sono più forti, hanno altre caratteristiche, e appunto per giocare questa espansione con gli stessi eroi, ma dovete usare le nuove carte. Aggiunta molto carina, vi ricordate c'era un personaggio nel primo che aveva un companion, ecco, questa volta il companion è fisico, c'è la miniatura che a breve vi faremo vedere, e non soltanto ha la sua carta e le sue azioni. Quindi, finalmente, il companion diventa parte integrante del gruppo, è come se fosse un altro personaggio fondamentalmente da muovere. Il manuale ci fa vedere ovviamente la storia e tutti quanti i background dei personaggi, e ci sono appunto delle nuove regole, come vi ho detto poc'anzi, l'aggancio, soprattutto regole per i terreni, incendi e cose del genere, resistenze varie dei mostri, perché magari i nemici che andete ad affrontare sull'app avranno delle resistenze particolari, e come riporta appunto il manuale, vi dicevo poc'anzi, gli incendi, quindi da andare a incendiare un elemento scenico, abbiamo la spossatezza e la più grande figata, le due parti, come vi dicevo, della scatola, la piattaforma e la cripta. Quindi una piattaforma di rialzo, perché il gioco non soltanto è tridimensionale con questi elementi scenici, ma la cosa bellina è che magari lo stesso dungeon è montato in due livelli, magari voi partite dalla cripta, e c'è il rialzo sopra collegato da una scala, e quindi potete fare l'azione per salire da un piano all'altro, c'è anche multipiano. È veramente figa come cosa, cioè non è facile da riprodurre, anche sul tavolo a gioco, una cosa del genere, a meno che non si faccia un wargame, ma la warhammer, cose del genere, ma parlando di un dungeon crawler, è veramente interessante. Ecco, aggiunge, ve l'ho detto, quello spessore, verticalità, tridimensionalità, che secondo me in un titolo del genere mancava. E poi, in conclusione, le miniature, che sono al solito di una bellezza disumana, le stesse miniature degli eroi, come dice il manuale, potete usare anche quelle del gioco vecchio, se vi piacciono, però questa è la loro evoluzione, sono un pochino più esperte, magari vestite in un'altra maniera e hanno altre pose. Però potete usare anche quelle della scatola base dell'altro gioco, eh. Se vi piacciono, magari la avete dipinti, va benissimo, assolutamente. Usate magari la miniatura del companion, perché questa volta il companion è proprio un altro membro del party al 100%. Ricordo che è un gioco unicamente cooperativo, non è competitivo, quindi o si vince o si perde insieme. Ci sono delle miniature bellissime, poi c'è la miniatura di un drago, che è qualcosa di spettacolare, veramente bellissimo, e abbiamo molte miniature per questa espansione, che magari verranno richiamate anche quelle del gioco precedente in alcune missioni. Infatti ricordo che Descent, la guerra del traditore, è un gioco, è un'espansione, che deve andare di pari passo col gioco base. Quindi se non avete il gioco base, non lo potete giocare questo, però sarebbe anche inutile magari fosse stand alone, perché portano avanti una storia di una campagna, che appunto quello che avete fatto nel primo gioco base si ripercuote in questo, quindi è anche bello insomma farseli tutti quanti linearmente, per avere un po' una campagna, una strada da seguire tutti insieme, e ti fa anche sentire parte di questa ambientazione. In conclusione, Descent, la guerra del traditore, espansione, prima espansione ufficiale di Descent, nuova edizione, secondo me è un gioco che tutti gli amanti del Dungeon Crawler, Occhio, non sto a dire che tutti quanti dovrebbero avere a forza, perché magari c'è qualcuno che questa tridimensionalità non gli piace, o non ne ha bisogno, semplicemente ne basta una plancia, un game mat, o un classico tavolo di gioco, un po' alla Hero, questa non mi viene l'esempio, anche alla Dungeon Saga, quindi senza troppi elementi scenici, però secondo me è un prodotto che chiunque abbia fatto un Dungeon Crawler, dovrebbe quantomeno provare, non dico che dovrebbe essere su tutti i tavoli, perché è molto particolare, però anche veramente una figata, ed è fatto veramente bene, quindi almeno una prova dategliela, in una fiera, a casa di un amico che lo possiede, o magari comprando la scatola in tre o quattro, così smezzate anche le spese, e magari spendendo poco ci fate una partita, perché secondo me potrebbe veramente piacervi molto, e poi anche la longevità è carina, perché una volta finito, si possono comunque anche cambiare obiettivi, e si possono cambiare personaggi, così da provare a far girare un po' tutte le classi, e poi essendo guidato dall'app, le mappe non sono mai le stesse, sia come composizione, che come nemici e combattimenti che dovremmo andare a fare, quindi l'app avrà sempre premura di crearvi un ambiente, che ogni volta sia qualcosa di bello e da scoprire, quindi per me consigliatissimo, una prova fatecela, io ringrazio Asmod Italia per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, scusate anzi, secondo link in descrizione, perché il primo è del video vecchio, e in sua impressione, dalla Giocolibreria Simola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito della Giocolibreria Simola, e digitate, è scinta la guerra del traditore, lo trovate, ma è finito, oppure proprio non è in lista, è fuori catalogo, scrivete al supporto della Giocolibreria Simola, e fate il presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, perché Giocolibreria Simola ordina anche prodotti finiti, e che non sono in catalogo, quindi ordinate un gioco che è uscito 6 anni fa, è ancora riperibile, viene dall'America, ma non è in catalogo, ordinatelo comunque, scrivendogli un messaggio al supporto, perché ve lo farà avere, ovviamente sempre se si trova, e ricordatevi sempre di usare il codice discount Coridan7, per avere uno scontro del 7%, se andate a spendere più di 79 euro, corriere e spese postali gratuite in tutta Europa, isole comprese, le ordinate massimo in due giorni, vi arriva a casa in 48 ore, quindi Giocolibreria Simola, un servizio perfetto, impeccabile, ordinate, ordinate anche roba che non c'è in catalogo, vi viene in mente un gioco di 10 anni fa, provate a chiederlo, che magari riesce a trovarvelo, e ve lo manda a casa, e usate col codice sconto ovviamente, io ringrazio ancora una volta, Giocolibreria Simola, e Asmod Italia per il prodotto fornito, ciao ragazzi, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao alla prossima!